Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla statale 67 Tosco-Romagnola dove ci sono code in entrambe le direzioni per un incidente avvenuto circa 4 km prima di Sieci. Rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Brucianesi e Porto di Mezzo. Rallentamenti per un senso unico alternato in entrambe le direzioni sulla statale 62 della Cisa circa 4 km prima di Aulla e sulla statale 63 del Valico del Cerreto circa 11 km prima del Valico del Cerreto. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera retato stradale Toscana e sulla FIPILI. In A1 personale su strada per lavori in uscita a Firenze e Scandicci provenendo da Bologna. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!